Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Sulla metro B1 inaugurato il parcheggio di scambio di Sant'Agnese Anibaliano. Sono 268 i posti auto, 16 quelli per le moto, l'ingresso è da via Spalato, l'uscita su Corso Trieste, il nuovo parcheggio di scambio di Anibaliano gestito da Atac è su tre livelli e come sempre è gratuito per gli abbonati Metrebus. Le altre notizie al via domani nell'ambito degli interventi per il giubileo, i lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento. Per fare spazio al cantiere la linea 19 Nav sposterà la fermata di capolinea a Viale Giulio Cesare e la 590 lo sposterà all'altezza della stazione metro di Cipro. Grazie. Grazie. Grazie.